buona giornata amici di fano tv ben trovati alla rassegna stampa come sempre iniziamo la lettura dei giornali questa mattina vediamo le notizie del giorno ce ne sono alcune veramente interessanti ma passiamo come sempre verso l'almanacco del giorno e vediamo che oggi si festeggiano due sante sono santa perpetua e santa felicità la prima una martire cartaginese fu martirizzata per la sua fede e in prigione conobbe felicità anch'essa cristiana era incinta e ottenne la grazia di partorire prima di essere esposta nell'anfiteatro in balia delle belve tutti e due morirono appunto nell'anfiteatro di cartagine quando ancora cartagine era sotto la dominazione romana ed ora diamo un'occhiata anche le previsioni del tempo vediamo qui la grafica sul corriere adriatico vediamo che la situazione rimane stabile tra sole e nuvolosità tempo incerto dunque in progressivo comunque aumento la nuvolosità verso la sera le massime arriveranno ai 16 gradi le minime si attesteranno sugli 8 gradi i venti saranno moderati da sud ovest sulle coste sud sud ovest nell'interno ovest sud ovest vediamo che anche il sole sorge alle 6 34 e tramonta alle 18 02 e devo dire che questa mattina venendo in redazione lo spettacolo era veramente bello la luna tramontava dietro la collina di monte giove mentre verso il mare sorgevano i bagliori dell'alba era veramente un bellissimo spettacolo il cielo sereno ciò detto vediamo le notizie pubblicate dai giornali questa mattina a partire dall'elisipo il mensile che è in edicola gratuitamente lo possono richiedere tutti vediamo una vignetta di chiappa che si riferisce alle elezioni del partito democratico con l'ashline che vince anche a fano vediamo qui monumenti fanesi e dietro l'ashline chi c'è ebbene fa capolino l'assessore ai servizi educativi samuele mascarin perché fa capolino perché samuele mascarin pur non appartenendo al partito democratico si è pubblicamente esposto votando sapevano si potevano potevano votare tutti votando appunto per l'ashline e poi l'ashline che è una segretaria che tende più a sinistra che verso il centro ma voglio anche farvi notare e sull'isipo di questa di questo mese un articolo a firma di sergio schiaroli sos consumatori occhio a prezzi e tariffe misteriosi psv e pun sono due sigle che troviamo quando rinnoviamo oppure paghiamo le bollette del gas e dell'energia elettrica ebbene sono due pagine due pagine fite che l'ex presidente segretario provinciale scusate della fede del consumatori con le quali analizza un po' l'andamento dei prezzi di mercato prezzi per quanto riguarda le tariffe del gas e dell'energia elettrica e prezzi per quanto riguarda la spesa le alimentari vediamo qui un carrello di spesa gremito di prodotti cosa che è sempre più difficile fare specialmente chi ha un reddito medio basso insomma un problema un articolo interessante sull'isipo di questo mese ed ora diamo un'occhiata invece al resto del carlino la pagina di fano perché entrambi i giornali devo dire non solo il carlino ma anche il corriere adriatico hanno una notizia veramente eccezionale un importante ritrovamento archeologico è stato fatto in questi giorni a fano siamo in centro storico in via vitruvio già il nome lascia presagire che quella è una zona interessante dal punto di vista archeologico ebbene nel corso di una ristrutturazione di un edificio privato alle spalle del cinema politeama quindi tra il cinema politeama e la chiesa di sant'agostino dove sotto poi è tutto un monumento e tutta una zona veramente suggestiva dal punto di vista anche turistico non solo dal punto di vista culturale è stato trovato qualcosa di molto interessante la cui natura è tutta ancora da identificare è stato scoperto sono scoperte le rovine di un edificio cinque locali con mura alte due metri ed uno spessore di un metro e mezzo certamente un edificio pubblico quale sarà la natura di un edificio pubblico è il punto interrogativo che rimane insoluto si parla della basilica di vitruvio beh ogni volta che si ritrova qualcosa di interessante a fano si pensa subito alla basilica di vitruvio ma questo è ancora tutto da dimostrare certo è che le decorazioni e i materiali usati in questo edificio sono veramente importanti in questa fotografia del resto del calino vediamo i marmi i marmi rosa di color povo nazetto che sono stati appunto ritrovati quale pavimento di questo grandioso edificio importante edificio pubblico a fiora dalle cantiere fano torna a sognare la basilica di vitruvio pavimentazione in marmo pregiato e muri imponenti la soprintendenza non si sbilancia ancora ma tanti indizi danno da pensare e ci sono subito delle dichiarazioni vediamo anche come il corriere adriatico riporta la notizia la vediamo qui sulla pagina di fano eccolo qua resti romani di duemila anni fa scoperta eccezionale in centro l'assessora alla cultura fattori sull'antico edificio emerso da un cantiere edile di via vitruvio ci sono diverse dichiarazioni ne parla l'assessore alla cultura cora fattori ne parla il presidente del centro studi vitruviani dino zachilli ne parla il coordinatore scientifico oscar mei insegnante di orcologia alla università di urbino tutti entusiasti tutti veramente caricati per questa nuova scoperta quindi occorrerà ancora studiare molto bene e cosa si farà poi di questi reperti punto interrogativo vista la sensibilità del proprietario della casa in cui sono stati fatti questi ritrovamenti chissà si spera che in qualche modo possano essere resi visibili e non quindi essere ricoperti per poi dimenticarli come si è fatto per tante altre zone archeologiche della città che non sono visibili e ce ne sono veramente tante bene ciò detto continuiamo l'esame sul resto del carlino che poi ha anche un altro articolo che riguarda le indagini che si intendono fare in piazza 20 settembre dove il georadar ha scoperto delle strutture sotterranee e il centro studi vuole scavare la piazza progetto da 60 mila euro per da seguito all'indagine con il georadar sono stati trovate e anche scoperti qui anche murature la cui natura è tutta da scoprire ed ora invece l'altra notizia importante è quella che si dà il via libera al casellino di fenile finalmente questa infrastruttura così importante per deviare il traffico dalla città di fano verso pesaro può venire alla luce almeno ha compiuto un altro passo avanti con il benestare della soprintendenza la soprintendenza che il vecchio progetto aveva ostacolato questa volta ha detto sì il progetto va bene via libera al casellino di fenile baldelli che è l'assessore alle infrastrutture della regione marche dice sarà pronto per il 2025 quindi i tempi sono piuttosto rapidi ok della soprintendenza sul progetto preliminare l'assessore regionale opera attesa veramente da 10 anni si libera uno dei tratti più congestionati delle marche per molti è un'alternativa alla variante di gimarra è quello che indicano gli ambientalisti cioè non facciamo un'altra strada non violentiamo l'ambiente collinare di gimarra utilizziamo l'infrastruttura che c'è grazie alle opere compensative grazie all'interquartieri e grazie anche alla provinciale di carignano può attuarsi può avviarsi il traffico verso il casellino e quindi con l'autostrada verso pesaro dove c'è poi anche il casello casellino di santa veneranda e poi questa data del 2025 vuol dire che i tempi potrebbero essere piuttosto rapidi speriamo che sia così e ieri è stato presentato in nella sala della concordia della residenza municipale un progetto di efficientamento energetico nuove caldaie alla nuti e alla gandiglio risparmi per 60 mila euro è stato presentato dall'assessora all'efficientamento energetico cora fattori ma anche dall'assessore lavori pubblici e barbara brunori insieme al sindaco massimo seri ebbene sono state il comune ha ricevuto un contributo dal governo di 310 mila euro l'ha ottenuto dal ministero dell'ambiente della sicurezza energetica 165 mila euro saranno spesi per la scuola media nuti 145 mila per la gandiglio un investimento per rifare le caldaie poi verrà utilizzato anche per gli infissi insomma per un cappotto per cercare di proteggere meglio dal punto di vista termico appunto gli edifici e poi abbiamo anche altri edifici pubblici quelli più energivori che sono in lista per essere protetti si tratta di edifici che riguardano per esempio casa archilei e altri e altri c'è anche l'asilo della trottola insomma altri edifici che sono appunto in procinto per essere protetti ed ora passiamo passiamo a marotta sul resto del carlino per marotta il carlino ci dice che il a lungomare il parcheggio nella prossima estate costerà un euro l'ora ecco le tariffe dal 15 giugno al 15 settembre prossimo 8 euro per un'intera giornata l'assessore tinti dice è una sperimentazione vediamo in particolare questo articolo costerà un euro all'ora con frazionamento di 20 centesimi ogni 12 minuti parcheggiare sul lungomare di marotta dal 15 giugno al 15 settembre sono queste le tariffe stabilite dall'amministrazione comunale di mondolfo che ha deciso di introdurre le linee blu in gran parte degli stalli 800 su 1200 disponibili si tratta della zona più appetibile della cittadina balneare appunto della nostra costa nello specifico oltre alla tariffa oraria di un euro con frazionamento appunto di 20 centesimi è stabilita una tariffa di 4 euro per la mezza giornata di 6 ore di 8 euro per la giornata intera di 12 ore dalle 9 del mattino al 21 insomma una spesa che si aggiunge a tutte le altre spese che corredono una vacanza oppure una giornata al mare e poi vediamo urbino a urbino si parla di progettazione di futuro la urbanistica cambierà per favorire il commercio le norme sul centro storico si evolvono per aiutare anche il turismo oggi un incontro con gli amministratori tecnici e le associazioni per capire di più un incontro che si svolgerà alle 16 30 nella sala serpieri del collegio raffaello in piazza della repubblica qui si riuniranno le commissioni consigliari lavori pubblici urbanistica e cultura turismo attività produttive ci saranno anche i professionisti tecnici operatori del turismo e del commercio l'incontro servirà ad illustrare le modifiche urbanistiche le possibilità di recupero del patrimonio edilizio del centro storico recentemente introdotte quindi nuove opportunità nuove possibilità per l'insediamento di attività produttive e commerciali nel centro storico di urbino quindi un provvedimento piuttosto delicato che deve essere ponderato con equilibrio per non così rovinare quella atmosfera magica che la città ducale sa ispirare a chi la visita e a proposito di urbino vediamo che l'insediamento del nuovo vescovo del vescovo di pesaro insomma non è che è stato ben accetto e c'è una dichiarazione dell'ex sindaco ex parlamentare giorgio londei all'insediamento di salvucci i veri assenti ha detto sono stati i cittadini di urbino l'unione che divide questo un po' è l'incipite di questo articolo un'unione tra le due diocesi quella di pesaro e quella di urbino che divide i cittadini di urbino insomma non sono affatto contenti di questa decisione del vaticano ad intervenire sull'insediamento di monsignor sandro salvucci e giorgio londei capogruppo in consiglio comunale di urbino e di montefeltro e il montefeltro che sottolinea come le tante assenze all'evento dimostrino l'avversione della comunità locale nei confronti della scelta del vaticano la strada maestra secondo londei è quella di continuare a sostenere il ritorno all'autonomia della arcidiocesi comunque il nuovo presule si è insediato con lui c'era monsignor tani il vescovo uscente c'erano anche degli urbinati ovviamente e credo che il tempio il tempo metterà una pietra sopra a queste divisioni e quindi tutto poi tornerà come prima con la pax ecclesiale tra le due diocesi a fossombrone gli investimenti si fanno una dichiarazione del sindaco berloni che ieri sera è stato ospite di fanno tv nella consueta trasmissione dedicata al primo cittadino a poco più di un anno dell'insediamento il sindaco massimo berloni e il vice sindaco michele chiarabilli fanno un mini bilancio di questi primi mesi di governo insomma ovviamente espongono un bilancio pesati positivo esprimono quello che è stato fatto e quello che intenderanno fare questo per quanto riguarda la pagina del resto del carlino vediamo anche qualche notizia di pesaro dove un manifesto affisso fuori del liceo mamiani di pesaro ha provocato delle proteste questo è il manifesto ve lo faccio vedere dalla fotografia un manifesto sul cui c'è scritto il fascismo non solo è improprio ma anche anticostituzionale ebbene l'esposizione di questo manifesto ha provocato l'intervento della digos e la scuola anzi l'insegnante autore anche i ragazzi autori di questo manifesto sono un po' risentiti come dice che c'entra la digos è una iniziativa questa che si pone nell'ambito costituzionale poi c'è stato un chiarimento con il questore il questore ha detto si anzi si è prumonato di chiarire che lo scopo dell'intervento della pattuglia era di capire se lo striscione fosse degli studenti o di soggetti esterni per sincerarsi che non ci fosse qualcuno che coinvolgesse la scuola in maniera impropria quindi se è una manifestazione la scuola nulla da da eccepire va bene non ci sono problemi se invece era qualcuno che insomma interveniva dall'esterno il problema era un po' più delicato comunque la cosa poi si è chiarita ed è rimasta lì e vediamo invece un'iniziativa interessante sempre questa organizzata dall'amministrazione comunale si tratta di una messa in guardia per i ragazzi specialmente neopatentati di non mettersi al volante quando magari si è bevuto un pochino di più o si è assunta una sostanza non proprio benefica sangue sulle strade docufilm murales video per evitare tragedie mobilitati mille cento all'unni il comune di pesaro si fa capofila di un progetto educativo da 287 mila euro si tratta del progetto bene responsabile finanziato dal dipartimento per le politiche antidroga della presidenza del consiglio dei ministri in concreto si lavorerà sulla informazione sulla formazione rivolgendosi come abbiamo detto a mille cento all'unni di sette istituti del territorio a partire da oggi 7 marzo ebbene da oggi al cinema metropolis di pesaro dalle nove alle undici si svolgeranno due dei quattro incontri gli altri si terranno il 17 marzo con gli studenti a condurli sarà il giornalista regista e storyteller luca pagliari che introdurrà i ragazzi alla proiezione di un documentario un docufilm intitolato ogni giorno sulla storia di francesco saccinto che era un ragazzino un ragazzino morto a 15 anni a corinaldo perché investito da un autocarro guidato da un ubriaco quindi veramente una tragedia che deve fare riflettere a coloro che si mettono alla guida di un'autovettura non in buone condizioni giriamo la pagina e vediamo che la situazione della famiglia moneti si sta evolvendo c'è ancora una tregua i moneti respirano sgombero rinviato e spunta un testimone dell'incidente la disperazione del padre di alessandro alessandro è il disabile che è stato colpito da un incidente ora in una sedia a rotelle abbiamo speso tutto ha detto il papà per curarlo dopo lo schianto che l'ha ridotto sulla sedia a rotelle la deposizione del test potrebbe garantire un risarcimento con il quale la famiglia potrebbe respirare e potrebbe rendersi almeno si spera autonoma per la propria gestione e invece i lavori per la facciata della intendenza di finanza dove sono state rette le impalcature a pesaro procura danni alle attività commerciali della zona il danno c'è ma ho il cuore in pace al via i lavori per ristrutturare l'ex intendenza di finanza esercizi chiusi chiusi fino a venerdì le reazioni dei titolari vediamo anche il titolare del centralino alberto marocchini qui sulla colonna di spalla le stiamo la stiamo prendendo bene dice visto che tra dieci mesi il palazzo sarà rivalutato e comunque ci saranno altri dieci mesi di passione allora a questo punto io direi di prendere il corriere adriatico per vedere le notizie abbiamo parlato del casellino di fenile abbiamo parlato dei resti romani venuti alla luce parliamo ora di un litigio che si è svolto a san lazaro un violento litigio richiama il 118 e la polizia picchiato un uomo che si era presentato ubriaco in casa di una famiglia ebbene si è presentato una un nell'abitazione di una famiglia albanese ed è ripartito in barella e assistito dal 118 insomma nel quartiere è scoppiato un violento litigio sono intervenuti una ambulanza e una pottuglia della polizia di stato il litigio è presto degenerato in percosse e ha avuto la peggio che aveva suonato il campanello insomma quello che era un po su di giri e che era appunto voleva penetrare nella casa di questa famiglia albanese ebbene quest'ultimo ha ricevuto un pugno al costato che gli ha tolto il fiato mettendolo ko insomma è quasi svenuto un altro articolo interessante sempre per quanto riguarda la cronaca che però si riferisce a fossombrone riguarda un atto di vandalismo spara la pensilina il vetro in frantumi un ragazzino identificato grazie alla spy cam la denuncia per danneggiamento il minore ha usato una pistola d'aria compressa sindaco e assessora ai servizi sociali incontrano i giovani del donati sulle norme di comportamento insomma un fatto eclatante che viene preso di esempio per una lezione di educazione civica a marotta un'emozione lunga 80 anni e adesso passiamo ai fatti unificazione di marotta quanto ha fatto parlare di sé quante pagine di giornali hanno parlato o di una tesi o dall'altra chi la voleva unita a fano chi la voleva separata e quindi unita al comune di mondolfo chi la voleva indipendente tante sono state le prese di posizioni ora l'unificazione di marotta è un fatto consolidato il giornale parla degli obiettivi del sindaco barbieri alla presentazione di un docufilm un docufilm che è stato proiettato di fronte a una sala gremita domenica scorsa nella sede della croce rossa in viale europa si tratta di marotta nel cuore di francesco grilli il comitato pro marotta unita con lo storico presidente gabriele vitali e il presidente ersiglia riccardi del circolo culturale marotta hanno percorso insieme al pubblico tutte le tappe che dagli anni 40 in poi hanno visto la popolazione marottese strappare la propria indipendenza chiamiamola così rispetto al comune di fano e poi 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 vediamo no qui l'abbiamo visto vediamo ora la qualche pagina di pesaro sul corriere adriatico eccolo qua l'articolo che volevo farvi vedere la pietra bianca di trani una pietra pregiata tarda ad arrivare e i lavori in via curie non partono il restyling sarebbe dovuto iniziare subito dopo natale per finire in 120 giorni in realtà tardi ce ne sono e quindi la situazione ormai è un po compromessa ebbene prima di chiudere voglio soltanto farvi vedere un aggiornamento sul delitto che è stato compiuto a pesaro dall'autopsia tese risposte sul perché della furia omicida sarà eseguita oggi sul corpo di pansieri la vittima di questo delitto ed era l'ultima notizia massimo foghetti vi saluta vi dà appuntamento a domani alle ore 7 precise grazie per l'ascolto a villa al sincero i tempo 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 tempo